Cultura, nuovi criteri per i contributi. Garante dei detenuti. Ires, approvato il programma di attività. In apertura della seduta del 21 giugno, il Consiglio regionale ha ricordato, con un minuto di silenzio, le vittime della strage di Orlando e ha commemorato Gianluca Buonanno, europarlamentare, consigliere regionale della decima legislatura, recentemente scomparso. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ha svolto la relazione della sua attività nel 2016. Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato una legge che disciplina le erogazioni di contributi a enti e associazioni culturali. Il nuovo statuto della Fondazione ISI, Istituto per l'interscambio scientifico, e il programma di attività 2016 dell'Ires, Istituto di Ricerche Sociali del Piemonte. Nella pausa dei lavori, una delegazione di tabaccai è stata ricevuta per un confronto sulla legge che disciplina le norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico. In copertina. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, il 21 giugno, una legge per l'erogazione di contributi adenti ed associazioni culturali. Il testo prescrive i requisiti per l'iscrizione a una tabella istituita dalla Giunta. Tra questi, aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni, disporre di una sede adeguata, possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari, archivistici e documentali, e garantire una larga utenza delle proprie iniziative, l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e i servizi culturali offerti. Sanità, lavoro e formazione professionale sono stati temi toccati da Bruno Mellano, garante regionale dei detenuti, in occasione della relazione annuale dell'attività 2015-2016, illustrata martedì 21 giugno all'Assemblea regionale. Tre sono le competenze specifiche che richiedono l'impegno della regione, la sanità, il lavoro e la formazione professionale. Tra le maggiori problematiche emerse, quella del sovraffollamento di alcune case di reclusione, in particolare spicca la realtà di Asti. In un momento che si è discusso molto di stati generali dell'esecuzione della pena, in un momento in cui c'è un'attenzione reale, concreta, rispetto alla sicurezza, ciascuno deve fare la propria parte. Come garante dei detenuti, mi sono permesso di fare un appello alle istituzioni regionali piemontese, affinché riprenda quel ruolo importante e significativo che negli ultimi decenni ha svolto, non solo con finanziamenti e contributi, ma anche con le linee guida, con l'indirizzo, con le scelte politiche di fondo. L'amministrazione penitenziaria, i territori, i comuni sedi di carcere, gli operatori lo attendono e credo che sarebbe un atto doveroso. Il Consiglio regionale ha approvato il programma annuale 2016 dell'Istituto di Ricerche Sociali del Piemonte. Il documento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Scientifico, è il frutto anche del confronto con le direzioni regionali e prevede un finanziamento di 4,4 milioni di euro. Tra gli obiettivi, gli strumenti per la costruzione di una nuova stagione di sicurezza economica e sociale. Grazie a tutti.